Ci sono tante tante iniziative che sto portando avanti, c'è un brand Maradona che Diego si prestava nel 2017 già a prendere le impronte della mano, del piede in 3D, dovremmo fare queste magliette stampate con la maglietta, con la mano di Diego. A sinistra ovviamente. Sì, 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 con la maglietta dell'Argentina, la blu, la famosa mano di Dios, e quindi questo per quanto riguarda il brand. Poi c'è un museo che io ho in mente, un museo diciamo tutto come adesso. Dove sarà a Napoli? No, no, io lo voglio fare itinerante, sempre giri per tutto, perché Maradona non è solo di Napoli, non è solo di Buenos Aires, Argentina, Maradona è del mondo calcistico. Quindi voglio fare una cosa, ecco, andare in Catarra, poi magari andare in un'altra parte, esporre questo museo, diciamo, virtuale, perché c'ho tante cose in mente. Cioè io voglio Maradona, l'ologramma di Maradona, che ti palleggia quello che abbiamo visto noi prima, e tu stai lì a palleggiare. Ci sono delle ipotesi di aprire un ristorante Maradona, poi nel mondo, in franchising, cioè con tutto il museo dentro, con tutti gli oggetti, tipo Hard Rock, queste cose. E poi c'è la cosa più bella, che secondo me è quello che io gli avevo promesso, la statua. Bella, che è già realizzata. Sì, 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 la stiamo terminando ad ora, perché veramente, prima di tutto, è Diego, nelle misure. Quando viene presentata? Viene presentata il 28 di novembre, in occasione di Napoli-Lazio, allo stadio ex San Paolo, oggi Diego Armando Maradona. E diciamo, questo è un omaggio che io ho fatto a Diego, perché io l'avevo promesso, quindi era la volontà di Diego, infatti sulla statua ci sarà scritto, anche io sono napoletano. Come diceva. Sì, perché io gliel'ho promesso il 5 luglio del 2017, quando è stato nominato cittadino onorario napoletano. Dove verrà posizionata poi la statua? All'interno dello stadio, dove il presidente Aurelio De Laurentiis ha in mente di fare un museo del calcio Napoli, e ci sarà una parte del museo di Diego Armando Maradona all'interno, quindi sarà un modo di pellegrinaggio per andare poi allo stadio e andare a fare questa scoperta di questa statua, che ripeto, la statua poi il particolare che ha, non solo le misure, ma ha la mano e il piede originale di Diego Armando Maradona, che io ho preso il calco in 3D, quindi sarà... È una preghiera.